Allora, le sublimi di More sono delle meditazioni buddhiste, sono quattro meditazioni buddhiste, quattro pratiche, infatti si chiamano Brahma Viara. Allora, questo termo, queste parole significano, io le traduco come sublimi di More, in realtà letteralmente Brahma significa in qualche modo divine, sublimi, sì, divine, e Viara sono di More, quindi sono dei regni, possiamo chiamarle quindi anche come regni divini. Cioè sono delle, che cosa è una dimora? È un luogo dove noi dimoriamo, una dimora della mente è un modo in cui, un luogo dove immetterci, dove stazionare, dove dimorare, dove rilassarci, dove regnare. E quindi queste sublime dimore sono quattro luoghi sublimi, divini, dove possiamo dimorare la nostra mente. E questo, già se pensi al nome, suggerisce uno stato mentale molto bello, quattro stati mentali diversi, stiamo parlando, molto belli dove dimorare, dove stare. E sono quattro sublimi. Una è la pratica di benevolenza, la metta, un'altra è caruna, quella appunto della compassione, e poi c'è la gioia compartecipe e l'equanimità. Allora, su metta e caruna in qualche modo ne ho già parlato, su la gioia compartecipe e merita, e anche sull'equanimità meritano due paroline in più, tanto per capire meglio quali sono. Allora, molto parte dalla benevolenza, dalla metta, dalla pratica dell'apertura del cuore, della pratica della pace interiore. Se sviluppiamo un'attitudine amorevole con noi stessi e con gli altri, ci sarà un po' più facile svilupparla anche con gli altri, ma anche sviluppare le altre qualità. Perché, per esempio, come dicevamo, caruna è una pratica dove questa benevolenza viene orientata verso la sofferenza degli altri, e questo sviluppa la compassione. Caruna, appunto, sta per compassione. Bene, poi la gioia compartecipe. Che cos'è questa gioia compartecipe? Beh, innanzitutto tutto ciò, l'amorevolezza, l'apertura del cuore, la compassione, ci aiuta a dimorare, appunto, come dicevamo, in uno stato di quiete interiore, di amorevolezza, di pace, di serenità, ma in qualche modo di gioia. Questa gioia è una gioia che può essere condivisa, e questa condivisione, perché è virale, la gioia, pensa a un sorriso quanto è virale. Bene, questa gioia noi la possiamo provare in generale e estenderla a tutto il mondo, ma se ci pensi è tanto più vera, tanto più sincera questa gioia, quanto più è condivisa, appunto. Quindi questo vuol dire che, così come gioisco perché mi sta succedendo qualcosa di bello, posso gioire perché anche a qualcuno, a un mio fratello, a una persona a me cara, o perché no, anche a una persona un po' meno cara a me, gli sta succedendo qualcosa di bello. Quindi è qualche cosa che è molto lontano, diametralmente opposto rispetto all'invidia. Se io soffro di invidia, praticare invece la gioia con partecipe mi aiuta proprio a smettere ad avere una visione diversa dall'invidia, a poter gioire anche della fortuna degli altri. Mi piace pensare che questo attira fortuna, perché concentrarci sulla fortuna che gli altri hanno avuto ci aiuta a aprirci a questa vibrazione e accogliere anche eventuale fortuna, perché no, anche a noi. Ma non può essere funzionale, questo ovviamente non funzionerebbe neanche se lo facessimo con un secondo fine. È proprio senza secondo fine, a me non succede niente di bello, a te sta succedendo qualcosa di bello, bene, io gioisco perché tu sei fortunato. Bellissimo, fantastico, questa è la pratica di Upecca, della gioia con partecipe, di Mudita, scusa, della gioia con partecipe. Invece Upecca è la pratica dell'equanimità. Che cos'è quest'altra parola, l'equanimità? L'equanimità è la capacità di accogliere le cose che la vita ci offre, che non sono facili da accogliere, difficoltà, sofferenza, disagi, in modo equanime, quindi parimenti agli episodi belli della vita. Quindi accoglierle gli episodi brutti della vita, parimenti agli episodi belli. Sembra difficile da fare, ma in realtà se ci pensiamo, ognuno ha il suo karma, dicono gli orientali, noi occidentali diciamo ognuno ha la sua croce, diciamo che ognuno in questo mondo ha un suo cammino. Anche una sua connotazione, una sua individualità, alla fine certi difetti ci caratterizzano. Se io fossi capellone non sarei pelato e in qualche modo il pelato che parla di meditazione, vabbè ce ne sono tanti, i monaci sono tutti pelati, non sono una novità in questo senso. Però voglio dire, e ce ne sono tanti che parlano di meditazione, per fortuna nostra ci sono i monaci che ci aiutano in questo senso. Però diciamo che alcuni miei difetti mi caratterizzano, sono peculiarità, alla fine non sono più difetti. E alcune, così come alcune sofferenze che mi hanno temprato, e vale per ciascuno di noi, sono delle occasioni di crescita. Come sono cresciuto io, rispetto alle mie sofferenze, sono unico. Così come cresce uno che ha altre sofferenze, è unico. Uno che sta su una sedia a rotelle avrà un percorso di vita tutto suo, di cui poi alla fine, grazie anche al suo percorso, arricchisce il mondo, mi piace pensare. E quindi anche le sofferenze possono essere anche viste con una retrospettiva, con uno zoom più alto, rispetto a quando in quel momento umanamente ne siamo travolti. Possiamo vedere che queste sofferenze in qualche modo ci fanno crescere. E questa crescita diventa in qualche modo una fortuna. Si dicono gli alchimisti che la sofferenza è il materiale, quel piombo, che noi trasformiamo in oro. Quindi se vogliamo dell'oro abbiamo bisogno di un materiale grezzo iniziale come il piombo, come la sofferenza. Ecco quindi che anche il piombo lo possiamo vedere come un potenziale oro. E quindi aprirci equanimamente a questa possibilità ci aiuta. Sembra difficile da fare, ma se ci pensi, quando noi smettiamo di preoccuparci, quindi quando smettiamo di usare il chiacchiericcio mentale, questo non lo voglio, quando non accettiamo e sviluppiamo in sofferenza rispetto a quello che comunque ci sta capitando, Buddha chiamava questa sofferenza, la vera sofferenza, e la chiamava la seconda freccia, perché diceva ci arriva una freccia, ci fa già male, e noi ci mettiamo il carico da undici, aggiungendo altra sofferenza, perché di fatto è come ci lanciassimo una seconda freccia dicendo che non volevamo la prima. Si tratta quindi di fare tesoro delle esperienze che in qualche modo inevitabilmente la vita ci offre, e quindi di attraversarlo un cuor sereno. Dicevo, quando stiamo nel presente, quando siamo nel qui e ora, smettiamo di preoccuparci, semplicemente ci occupiamo di quello che c'è da fare, per cui se c'è una cosa di cui mi devo prendere cura di me, mi rimbocco le maniche e mi prendo cura di quello. Quando riesco a fare questo, quindi vinto comunque un momento umano di sballottamento, che ci sta, di sofferenza, e poi a un certo punto mi rimbocco le maniche e faccio di buon viso, insomma cerco di fare tesoro di quell'esperienza che mi è stata proposta. Ed ecco in qualche modo quindi anche la qualità della equanimità. Dimorare e allenarci a queste quattro qualità è un modo, sono quattro modi, quattro meditazioni buddiste, molto potenti, molto utili e funzionali ciascuna, appunto con la sua angolatura diversa, quella che ti aiuta un pochino di più a vincere l'invidia, quella che ti aiuta un pochino di più a vedere, a vincere l'ansia, quella che ti aiuta un pochino di più ad allontanare altri aspetti della nostra vita. Comunque sia, sono quattro dimori sublimi, bellissime da fare, molto piacevoli, e che invito in qualche modo a praticare, a conoscere, ad approfondire. Soprattutto la madre, cioè la sorella maggiore, mi chiami, sono sorelle paritarie in realtà, però diciamo quella da cui un pochino tutto nasce, che è l'amorevolezza, la benevolenza, la pratica di benevolenza, la pratica dell'apertura del cuore, la pratica della pace interiore. Bene, se ti è piaciuto il video, lascia un bel like, scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua, è arricchente per me e per gli altri, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita, la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici. Grazie.